Dopo la gara contro il Benevento, l'Avastese e l'Aragona ospita un'altra sfida di prestigio, il triangolare con Pescara e Pineto. Nella prima partita i padroni di casa sfidano i ragazzi di mister Epifani. I biancorossi partono bene, al quinto minuto conclusione di Mastro Mattei, debole e centrale, tutto facile per Ramadio. Al settimo il Pineto a sfiorare il gol, Sarrizzu per un soffio non trova la deviazione vincente, sotto porta, palla a lato. Terramani ancora pericolosi al sedicesimo con Alessandro che da dentro l'area la piazza, ma è reattivo Bardini che si distende e blocca. Al ventisettesimo Dos Santos conclude da fuori, buona la preparazione, meno il tiro. Minuto 32, il Pineto vicinissimo al gol, Pepe calcia a botta sicura, miracolo di Bardini che respinge distinto, la palla resta pericolosamente lì. Nuova conclusione degli uomini in maglia bianca e questa volta è il palo ad evitare che la palla vada in rete. Al 45esimo l'estremo della Vastese salva ancora tutto su Pippi e poi Alessandro non trova la porta da due passi. Un minuto dopo il numero 9, questa volta la mette dentro di testa. Nulla da fare per il portiere biancorosso sullo stacco del centravanti Terramano. Nella seconda gara la Vastese sfida il Pescara che scende in campo con una maglietta arancione sgargiante. La formazione pescarese parte con l'acceleratore schiacciato e dopo 11 secondi si procura un rigore. Sul dischetto va Galano che fa 1-0. Al quindicesimo è Borrelli a siglare il 2-0 con un violento destro sul primo palo. La gara si addormenta e per vedere un tiro degno di nota bisogna attendere il 42esimo quando Borrelli fa 3-0 e sigla la sua doppietta che vale la vittoria. La terza ed ultima sfida è tra Pescara e Pineto. Ritmi blandi fin dall'inizio ma è la squadra di Zauri la più pericolosa. Il gol arriva al 14esimo con una bella conclusione del subentrante di Grazia 1-0. Il raddoppio arriva al 32esimo con Cisco che calcia e buca la porta difesa da Shiba 2-0. Termina con questo risultato la gara ed è il Pescara a fare su il triangolare. Mister Epifani, soddisfatto di questo Pineto questa sera? Sì, assolutamente sì. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro la prima partita con la Vastese facendo cose molto buone. e anche la seconda parte di partita dove ho cambiato i giocatori contro il Pescara. Logicamente la partita è andata molto più difficile perché incontravi una squadra di cariatura superiore. Però l'importante è vedere le cose che interessano l'allenatore. Siete pronti per questo inizio di campionato? Mancano ancora tanti giorni. Adesso stacchiamo perché abbiamo tre giorni liberi. Da domenica ripartiamo e ci prepareremo prima per la Coppa Italia e poi per il campionato. Ci saranno ancora due settimane di grande lavoro cercando di trovarsi all'appuntamento bene. Sì, gradualmente ci sono i carichi di lavoro quindi ancora non si possono vedere delle grandi giocate che comunque proviamo in allenamento perché ripeto stamattina per esempio abbiamo fatto un carico di forza quindi le gambe erano un po' pesantite però abbiamo fatto delle buone trame. Domenica cercheremo di rimettere in pratica ciò che il mister ci dice in settimana cercando di farlo con più intensità e con più determinazione.